la festa della gara si inizia a marrare e si diceva ma con il 15 passa dalla festa di finale le prime due punti di finale quindi in un momento si è in testa e in testa la festa di finale la festa di finale con questa questa festa di finale la festa di finale la festa di finale la festa di finale un po' da nuovo per la trianzia line attacco del gioco, molto vicino, molto la curva con la trianzia line da bandi vince questa parte di finale con la cancuna seconda venta andiamo andiamo Andiamo! E' buona questa pattenza per il preso in prima posizione, con la seconda pattenzione a 9.000 anni. Prima posizione, con la seconda pattenzione per la terza, con la seconda pattenzione per la terza. Con la seconda pattenzione, con la seconda pattenzione per la terza.